Cittadini del sito UNESCO. La prima edizione del concorso promosso nel 2015 dall'Osservatorio Permanente per il Centro Storico di Napoli, sito UNESCO, ha visto oggi il momento conclusivo con i 18 istituti partecipanti provenienti da Napoli, Pompei, Ercolano e Torre Annunziata che hanno messo in mostra al maschio angioino le storie scelte per ricostruire l'identità storica dei rispettivi territori, stimolando così il senso di appartenenza, la difesa e la valorizzazione, in un'ottica di creazione e di sviluppo. I lavori descrittivi e gli itinerari multimediali sono il risultato di un progetto pilota che l'Osservatorio UNESCO del Comune di Napoli ha avviato con un protocollo di intesa sottoscritto insieme con la città metropolitana di Napoli e dei comuni appunto di Ercolano, Pompei e Torre Annunziata, per una gestione integrata della promozione e la valorizzazione dei rispettivi siti, coinvolgendo dunque le scuole nel riconoscimento dell'eccezionale valore che l'UNESCO ha attribuito a questo patrimonio culturale. Hanno partecipato gli alunni delle terze classi delle scuole medie inferiori che hanno descritto un itinerario turistico-culturale nel proprio ambito urbano attraverso approfondimenti interdisciplinari che hanno toccato molte materie, dalla letteratura alla storia dell'arte, all'educazione civica, alla storia, alla religione, all'ambiente e della musica, evidenziando e valorizzando aspetti identitari materiali ed immateriali.